Eccoci con un nuovo test di comprensione di italiano di livello avanzato. Ciao, sono Mattia di Lingua Franca. Nel video di oggi testeremo la tua capacità di ascolto in italiano. Prendi una penna e un foglio di carta e cominciamo subito! L'obiettivo di Eleonora Nella nebbia densa del primo mattino, Eleonora era solita perdersi nei suoi pensieri mentre andava al lavoro. Sebbene fosse una donna di successo che aveva un'impresa di consulenza in continua crescita, viveva la sua vita con una semplicità disarmante. Non era attratta dai lussi o dalla giatezza che il suo successo le avrebbe potuto garantire, ma era irrimediabilmente innamorata della bellezza pura e della semplicità che la vita quotidiana offriva. Preferiva i piaceri naturali piuttosto che quelli materiali, la gioia del canto di un uccello rispetto al brusio costante della vita cittadina, il riso genuino di una persona cara rispetto al riconoscimento pubblico del suo lavoro. Nonostante il suo trascorso difficile, marcato da una serie di eventi sfortunati che avrebbero potuto spezzare lo spirito più forte, Eleonora era riuscita a superare ogni ostacolo con grazia e determinazione. La sua vita non era facile. Aveva superato le avversità di crescere in una famiglia problematica, i lutti, le delusioni. Era riuscita a intraprendere un percorso di studi in economia, lavorando sodo per mantenere la sua indipendenza, per ottenere una borsa di studio e, infine, la laurea. Poi, con un piccolo prestito, aveva lanciato la sua azienda. I primi anni erano stati difficili, ma Eleonora non si era mai persa d'animo. Aveva lavorato sodo, aveva costruito un team fidato e competente, aveva avuto coraggio e immaginazione, e la sua impresa era cresciuta, più di quanto avesse mai sperato. Eleonora vedeva la vita con un obiettivo chiaro, coltivare la propria felicità e la propria indipendenza. Conoscere se stessa, il suo valore, la sua forza, le sue debolezze. E nonostante il successo, non aveva mai perso la capacità di apprezzare quelle piccole cose che la vita le offriva ogni giorno, quelle piccole gioie quotidiane che la rendevano la donna fortunata che si sentiva di essere. Fine del primo ascolto. Sei pronto a sentire la storia per la seconda volta? L'obiettivo di Eleonora Nella nebbia densa del primo mattino, Eleonora era solita perdersi nei suoi pensieri mentre andava al lavoro. Sebbene fosse una donna di successo che aveva un'impresa di consulenza in continua crescita, viveva la sua vita con una semplicità disarmante. Non era attratta dai lussi o dalla giatezza che il suo successo le avrebbe potuto garantire, ma era irrimediabilmente innamorata della bellezza pura e della semplicità che la vita quotidiana offriva. Preferiva i piaceri naturali piuttosto che quelli materiali, la gioia del canto di un uccello rispetto al brusio costante della vita cittadina, il riso genuino di una persona cara rispetto al riconoscimento pubblico del suo lavoro. Nonostante il suo trascorso difficile, marcato da una serie di eventi sfortunati che avrebbero potuto spezzare lo spirito più forte, Eleonora era riuscita a superare ogni ostacolo con grazia e determinazione. La sua vita non era facile. Aveva superato le avversità di crescere in una famiglia problematica, i lutti, le delusioni. Era riuscita a intraprendere un percorso di studi in economia, lavorando sodo per mantenere la sua indipendenza, per ottenere una borsa di studio e, infine, la laurea. Poi, con un piccolo prestito, aveva lanciato la sua azienda. I primi anni erano stati difficili, ma Eleonora non si era mai persa d'animo. Aveva lavorato sodo, aveva costruito un team fidato e competente, aveva avuto coraggio e immaginazione e la sua impresa era cresciuta. Più di quanto avesse mai sperato. Eleonora vedeva la vita con un obiettivo chiaro. Coltivare la propria felicità e la propria indipendenza. Conoscere se stessa, il suo valore, la sua forza, le sue debolezze. E nonostante il successo, non aveva mai perso la capacità di apprezzare quelle piccole cose che la vita le offriva ogni giorno, quelle piccole gioie quotidiane che la rendevano la donna fortunata che si sentiva di essere. Fine dell'ascolto. Sei pronto a rispondere alle domande? Avrai circa dieci secondi di tempo per rispondere a ogni domanda. La risposta giusta è B. la protagonista della storia si chiama Eleonora. 2. Cosa fa Eleonora per vivere? È un'attrice. È una scrittrice. È una giornalista. È una consulente. Eleonora è una consulente. La risposta giusta è la D. 3. Come affronta i momenti difficili? Si lascia sopraffare dalla tristezza. Riesce a superarli con grazia e determinazione. Fugge da essi. Cerca aiuto in altre persone. B. Eleonora riesce a superare i momenti difficili con grazia e determinazione. 4. Quale degli aspetti della vita apprezza di più? I lussi e la giatezza. La vita cittadina. La bellezza pura e la semplicità della vita quotidiana. Il riconoscimento pubblico. Gli aspetti della vita che Eleonora apprezza di più sono la bellezza pura e la semplicità della vita quotidiana. 5. Quale tra le seguenti affermazioni riguardo Eleonora è corretta? Eleonora non è mai stata in grado di mantenere la sua indipendenza. Eleonora è cresciuta in una famiglia benestante. Eleonora è una donna che ha avuto successo grazie alla sua impresa di consulenza. Eleonora ha ottenuto tutto ciò che ha senza sforzo. 5. Quale tra le seguenti affermazioni riguardo Eleonora è corretta? La risposta giusta è la C. Eleonora è una donna che ha avuto successo grazie alla sua impresa di consulenza. 6. Cosa ha dovuto fare Eleonora per pagarsi gli studi? Ha dovuto lavorare duramente. Ha ricevuto un finanziamento dalla sua famiglia. Ha vinto alla lotteria. Ha venduto la sua azienda. 7. Quale era la condizione della sua azienda nei primi anni? Un successo immediato. Stava andando in fallimento. Ha avuto difficoltà. Ha ricevuto molti investimenti. La risposta giusta è la C. Nei primi anni la sua azienda ha avuto difficoltà. 8. Quale è un obiettivo importante per Eleonora nella sua vita? Avere molti amici. Diventare famosa. Coltivare la propria felicità e indipendenza. Vendere la sua azienda. Un obiettivo importante per Eleonora è coltivare la propria felicità e indipendenza. 9. A cosa attribuisce la sua fortuna? Al suo successo nel lavoro. Ai suoi beni materiali. Alle piccole gioie quotidiane. Ai suoi fan. Eleonora attribuisce la sua fortuna alle piccole gioie quotidiane. 10. Che tipo di famiglia aveva Eleonora? Una famiglia ricca e affettuosa. Una famiglia problematica. Una famiglia di artisti. Una famiglia di imprenditori. La risposta giusta è la B. Eleonora aveva una famiglia problematica. Fine delle domande. Come è andata? Sei riuscito a rispondere correttamente a tutte le domande? Fammi sapere in un commento qui sotto come è andata. E se vuoi continuare a mettere alla prova il tuo italiano, clicca qui per trovare tanti altri test. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!